Sistema triage attivato. Ecco, già finito. Rifornimenti, chi prima arriva meglio alloggia. Mette una barricata. Segnale in uso, zona pericolosa. Segnale tattico in uso. Un nostro segnale tattico è stato distrutto. Ormai sono alla frutta. Finiteli! Un nemico a terra. Medico. Tacom, un'uva via le mie coordinate. Go! Trappola piazzata. Nomad ucciso. Un'attacca in più. I soldi fanno sempre comodo. Impulso visibile. Impulso visibile.